Questa pandemia ci ha colpito all'inizio dell'anno. Ricordiamoci di questi giorni questa curva dei malati che saliva, il numero dei morti che aumentava, divisioni fra i nostri paesi che minacciavano all'orizzonte. Abbiamo sentito delle critiche che ci hanno ferito, delle parole che dividevano il nord, il sud, l'est, l'ovest, dei dibattiti sui coronabond che finivano con i pugni serrati, con le dita puntate. La situazione era cupa e le opzioni poco numerose e le poche soluzioni messe sul tappeto erano intergovernative. Quindi fuori dal quadro europeo, senza metodo comunitario, senza Parlamento europeo e, ricordo, eravamo anche senza un accordo sul nostro bilancio europeo due anni dopo la nostra proposta. Ed è per questo che la Commissione europea ha avanzato una proposta europea per evitare i riflessi, gli errori del passato. Una proposta europea per un rilancio europeo. Next Generation EU